scientifica il podcast più inseguito dagli zombie episodio 227 benvenuti a questo nuovo episodio sulle nostre frequenze virtuali l'episodio è il 227 vero Ila? 227 se abbiamo contato bene ma io non ne sono tanto sicura ma se l'ultimo sul sito era il 226 a meno che non abbiano sbagliato quelli prima a meno che non ci sia la puntata fantasma tanto misteriosa e agognata da tutti cioè la 200 lo smetteremo prima o poi? no non la smetteremo mai bentornati a tutti e bentornato anche a me stesso che sono due mesi che non conduco un podcast perché era un casinato avevo mille cose da fare quindi niente conduci più tu di me Ila lo so Simone il problema è che tu fai la figa e noi quindi dobbiamo poi prenderci i tour che dovresti fare te non è vero Simone sta lavorando come uno schiavo io lo posso testimoniare non hai neanche il tempo di prendere il caffè anche se anche lì penso che anche tu faccia un po' la figa anche quando ti chiedo di prendere il caffè non c'è tempo non c'è tempo e l'almetto si può dire caffè in podcast no secondo me non si può dire caffè in podcast perfetto comunque in questo caffè caffè vabbè in questo tema di sfruttamento e schiavitù generale inauguriamo la puntata 227 che è la puntata dedicata alle apocalissi e come iniziare una puntata sulle apocalissi se non con una domanda sulle apocalisse dal nostro amico nicola che ci dice ci sono molti film videogiochi eccetera che si ambientano in un futuro apocalittico dove ci sono fallout zombie che uccidono gente e cose così e in questi ambienti succede in queste ambientazioni tante persone si ammazzano con una pozzangra d'acqua e addirittura arrivano ad atti di cannibalismo ora è possibile che in tutti questi scenari catastrofici l'umanità non possa riprendere minimamente il suo corso ma invece si debba per forza tutte le volte tornare all'età della pietra e la risposta è umberto smaila umberto smaila la risposta è perché lo chiedi allora la prima risposta che io mi sono dato e in realtà è un'altra domanda ed è stato ma perché lo chiedi a noi cioè non è una cosa scientifica una cosa che riguarda le fiction esatto e poi ho cercato su internet quindi diciamo che nell'invenzione tutto quello che riesce ad immaginarti è possibile ed è anche plausibile esatto e quindi ho detto sono andato su internet ho detto ma sì ma chi vuoi che se ne sia mai occupato e invece c'è stato qualcuno che se ne è occupato allora beh a parte fare delle considerazioni di buon senso ovvero che non si tornerebbe comunque all'età della pietra ma si tornerebbe semplicemente a un'era sostanzialmente preindustriale tra il settecento fino settecento fine seicento quindi diciamo che si perderebbero le competenze sugli ultimi due o trecento anni quelli più tecnologici fondamentalmente secondo me questa affermazione dipende dalla percezione che tu hai del mondo e dalla bolla della gente che ti circonda perché probabilmente sei circondato da persone che bene o male qualcosa riescono a combinare io che invece ho la percezione di essere circondata no circondata no ma so che c'è tanta gente che non troverebbe l'acqua in mare per far usare una frase che invece direi in un altro modo ma non posso dire culo in podcast no non posso e allora questa gente invece tornerebbe probabilmente all'età della pietra che c'è gente che davvero non sa accendere un fuoco neanche con l'accendino vabbè questo è vero è vero però non è che disimpari magicamente a cavalcare oppure c'è nel senso sul cavallo ti ci lancio io non ho mai imparato a cavalcare io se mi lancio sul cavallo muoio subito però se se tu muori poi ci sarà qualcun altro che lo fa ci sarà uno che sopravvive quindi saprà cavalcare ma la stessa cosa per l'allevamento e la coltivazione cioè non avrai più i trattori però comunque alleverai male o coltiverai male però potrei sono d'accordo con te e comunque tutti i manuali cartacei che sono stati redatti durante questi ultimi 400 anni riguardo ad ogni pratica possibile sulla terra rimarranno e anche se non hai un video su youtube per farlo per vedere un tutorial e capire come tagliare la lana a una pecora magari c'è qualche libro che te lo spiega quindi sì sarebbe un bel collo di bottiglia evoluzionario è evoluzionistico per l'uomo ma diciamo che sterminarsi e poi zombie no è no anche perché comunque fondamentalmente non è che disimpari a leggere cioè leggere continui a saperlo fare so che in questo periodo è poco considerata questa abilità però di fatto continui a saper leggere ed è per proprio per questo che il l'astrobiologo Lewis Dardnell ha scritto un libro su come ripartire far ripartire la società dopo un'apocalisse e la prima domanda che mi sono posto anche in questo caso è stato che cosa fa un astrobiologo studia specie aliene forse la vita di deve essere un uomo estremamente impegnato sai che frustrazione detto questo sì ma infatti per questo scrive libri di cui tra l'altro c'è un estratto su scientific american io l'ho letto con interesse questa cosa perché ho detto ma sai che bello vediamo quali sono secondo un astrobiologo autorevole i punti cardine più importanti per far ripartire la tecnologia dopo averla persa dopo essere dopo aver fatto sì che sia scomparsa dall'umanità vai simo qual è la cosa più importante di tutte vai solo curiosa c'è questo lungo estratto in cui ti spiega come fare le fotografie ti spiega come rifare i sali d'argento come creare la lamina su cui puoi impressionare è assolutamente fondamentale fare fotografie dell'apocalisse e della disdetta e del fine dell'uomo perché cosa fai? non lasci un documento ai posteri mangiare invece coprirsi devo dire che quando che quando ho letto l'inizio dell'estratto c'è scritto la fotografia è una tecnica magnifica un modo per intrappolare la luce e ricordare e registrare un'immagine catturando un istante nel tempo e preservarlo per l'eternità sì ma se non dai da mangiare a tuo figlio questa eternità sarà molto molto breve comunque vabbè questo era l'estratto del quindi c'è qualcuno che l'ha scritto se vuoi saperlo questo libro si chiama Rebooting Civilization di chi è l'autore? scritto da Lewis Dartnell io non l'ho letto e penso che non lo leggerò Lewis Dartnell un uomo pragmatico esatto come si chiama? i selfie cos'è che è il primo problema? ma sai che probabilmente la cosa grave è che magari c'ha ragione lui che il primo problema della gente è farci un selfie e dire guarda sono sopravvissuto oh non c'è più instagram dove l'ho posto? ci sono anche delle informazioni sul suo sito che è theknowledge.org ma gli stiamo facendo pubblicità questo uomo uno che ha un sito che è theknowledge veramente sì la conoscenza però vabbè scrive anche c'è un estratto su scientific american comunque questo è il capitolo undici si spera che nel capitolo prima spieghi come arrivare ad estrarre per esempio gli sai d'argento per farci la fotografia comunque vabbè detto questo detto questa cosa molto interessante speriamo di aver risposto alla tua domanda oppure no Nicola perché comunque abbiamo dei seri dubbi sul fatto che si possa rispondere a questa tua domanda in ogni caso noi possiamo continuare in questa puntata dettata all'insegna dell'ottimismo sì sì parliamo di apocalissi vere e incombenti esatto quale miglior modo per parlare di ottimismo e per far arrivare l'ottimismo a tutti se non parlare di global warming e lo facciamo con la nostra amica Serena Giacomini un benvenuto a Serena Giacomini meteorologa per il centro Epson Meteo e presidentessa dell'Italian Climate Network benvenuta Sere grazie Simone grazie ben ritrovato e ben ritrovata a tutti bentornata effettivamente è da tantissimo tempo che non sei sulle frequenze di Scientificas ma anche che io e te non ci parliamo penso qualche anno naturalmente è vero diciamo che ci siamo persi qualche aggiornamento nel frattempo nel frattempo non stai tanto bene chiedo anche scusa a tutti quelli che stanno ascoltando per la mia voce da Ugo ma è una tanteita che mi porto dietro da due settimane così diciamo questo perché parli e non dovresti parlare capisci come sono amico con te facendoti questa intervista sì ma guarda sono anche riuscita ad essere affona completamente per due giorni ma per la gioia del mio compagno ma ecco e vabbè comunque che ci dobbiamo fare? comunque siamo qui per parlare in realtà di situazioni apocalittiche abbiamo parlato prima di situazioni apocalittiche differenti adesso invece parliamo del rapporto di qualcosa di un po' più concreto forse un po' meno devastante ma comunque che riguarda il riscaldamento globale e in particolare il rapporto dell'IPCC che è l'intergovernment è imprenunciabile intergovernmental panel on climate change comunque se vuoi dirlo in italiano è il pannello intergovernativo sul cambiamento climatico dovrei vedere te che comunque fai tanto quella ma che io e te sarà a impapinarci su queste parole insieme a dei professionisti io direi che è all'ennesima potenza sì sì assolutamente comunque questo rapporto è uscito qualche tempo fa ha dato delle notizie che sono uscite un po' su tutti i giornali internazionali in realtà in Italia un po' meno che comunque non sono notizie rassicuranti no direi di no allora questo è un rapporto è un rapporto speciale perché l'IPCC comunque periodicamente pubblica un rapporto sullo stato di fatto del cambiamento climatico e sui scenari futuri però durante la COP di Parigi quindi la conferenza delle parti di Parigi che è quella in cui si è firmato l'accordo di Parigi ricordiamo 195 nazionalità hanno firmato questo accordo in quell'occasione è stato richiesto è stato richiesto questo rapporto speciale dell'IPCC un rapporto che si chiama 1.5 e in pratica questo rapporto vuole evidenziare come restare al di sotto intorno a un aumento di temperatura superficiale globale media di 1,5 gradi centigradi e quali sono quali sarebbero le differenze in termini di effetti tra un innalzamento della temperatura 1.5 e un innalzamento della temperatura 2 gradi forse la cosa più semplice per far capire anche a tutte le persone che ci stanno ascoltando è capire qual è la situazione di oggi il cambiamento climatico purtroppo fino a dieci anni fa era una problematica che si proiettava nel futuro quindi in generale noi parlavamo di climate change e di quale poteva essere lo scenario in generale al 2100 purtroppo adesso si bisogna ancora parlare di climate change oggi perché gli effetti sono già ben evidenti perché noi Simone abbiamo un riscaldamento globale che oggi ha toccato quota di un grado centigrado in più e questo in pochissimo tempo quindi quindi c'è già una cosa che è perfettamente in atto e si vede molto bene io mi ricordo quando si parlava di climate change qualche anno fa come dicevi giustamente tu si parlava di prospettiva al 2050 al 2100 quindi comunque un limite piuttosto lontano e solitamente oltre alle nostre vite a parte io che voglio vivere 150 anni ma quella è una cosa che riguarda puramente solo me sì beh ma poi tu che sei appassionato di scienze te ne intendi magari con i tuoi intrugli chimici ci riuscirai anche sta di fatto che il problema ovvio il problema è che gli effetti del cambiamento climatico a parte gli scherzi si vedono già in particolar modo tra le popolazioni vulnerabili quindi vuol dire che ci sono dei territori nel pianeta che in questo momento sono già in grande sofferenza dal punto di vista ambientale vi posso dire che c'è una riduzione non indifferente della barriera corallina un innalzamento del livello del mare che non riguarda in maniera omogenea tutte le coste del globo perché l'innalzamento del livello del mare in maniera controintuitiva non è come dicevo omogeneo ci sono delle zone che sono maggiormente soggette come per esempio le famose Maldive le Filippine quelle zone lì sono maggiormente in pericolo abbiamo una perdita di ghiaccio artico che è a dir poco preoccupante una perdita di biodiversità se ci vogliamo avvicinare di più a quella che è la nostra realtà di tutti i giorni possiamo parlare del calo della resa dei raccorti agricoli oppure anche dell'estremizzazione dei nostri climi come le ondate di calore che si presentano più spesso oppure le precipitazioni estreme che stanno aumentando di frequenza in questi ultimi anni sì questa è una cosa di cui avevamo parlato anche la volta scorsa e spesso ci si dimentica ma in realtà buona parte delle catastrofi che vediamo in questo periodo tra l'altro il nostro paese ha avuto parecchi problemi negli ultimi tempi c'è stato un allagamento in Sicilia pochi giorni fa e tutti questi eventi estremi sono anche causa dei mari molto caldi tra l'altro qui quest'anno sta facendo un caldo impressionante adesso io parlo per Genova e Liguria ma c'è gente che fa ancora il bagno e siamo a fine ottobre so che poi non è il picco che fa la differenza tu pensi due giorni fa adesso vabbè stiamo registrando ma tipo possiamo dire il 24 di ottobre si sono registrati 31 gradi a Bergamo e 30 gradi a Linate e Malpensa quindi alla stazione di Linate a Malpensa qualcosina meno però insomma ci aggiriamo in quella cifra siamo a fine ottobre queste non sono temperature normali allora ad aggravare la situazione c'era il vento di Fön che per chi magari è appassionato di meteorologia sa che è un vento caldo di caduta dalle montagne in ogni caso comunque la massa d'aria che caratterizzava il nostro territorio un paio di giorni fa ma in realtà anche adesso è molto calda rispetto al periodo quindi indipendentemente dal vento di Fön avremmo avuto temperature nettamente al di sopra delle medie stagionali come dici tu questi fenomeni i fenomeni meteo intensi come possono essere i nubi fragili conseguenti alluvioni possono essere legati al cambiamento climatico perché dico possono perché se vogliamo essere rigorosi dal punto di vista scientifico occorre stare strettamente legati agli studi di attribuzione però in generale quello che dice diciamo la scienza del climate change è che queste piogge così estreme stanno aumentando in frequenza e non solo anche in intensità il Mediterraneo purtroppo è un hotspot come diciamo noi quindi è una zona che è particolarmente vulnerabile al climate change stiamo notando una diminuzione generale dei quantitativi di precipitazione quindi piove meno ma quando piove piove più intensamente e quindi dà vita a questi fenomeni che possono avere delle conseguenze devastanti sul nostro territorio ricordandoci che è certamente in parte colpa del cambiamento climatico però Simona un messaggio importante che dobbiamo dare è che i nostri territori in questo momento stanno soffrendo perché c'è un'incuria particolare per cui incuria del territorio più grande cementificazione fanno sì che questi eventi estremi accentuati dalla problematica del climate change possano avere degli effetti diciamo difficili da difficili da sopportare questo te lo dico perché in generale in questo momento storico si dà molta colpa al cambiamento climatico che è un problema enorme però non tutte le colpe sono del cambiamento climatico anche noi abbiamo delle grandi responsabilità a livello territoriale no soprattutto in un paese come l'Italia dove più volte ce lo siamo detti sia in interviste ma anche in varie chiacchierate che ci siamo fatti di persona che bello questa cosa che noi di persona chiacchieriamo di distesso idrogeologico ma l'Italia è un paese con un altissima percentuale di territorio a rischio ad alto rischio di distesso idrogeologico guarda ti do due dati due dati su tutti il 91% dei comuni si trova in area vulnerabilità per quanto riguarda il distesso idrogeologico e se ragioniamo in termini di nuclei familiari arrivano a 3 milioni di nuclei familiari che si trovano in area ad alta vulnerabilità quindi questi devono essere dati che capaci di farci ragionare capaci di essere consapevoli del pericolo e del rischio soprattutto e devono essere dei dati che ci diano la forza di chiedere anche alle istituzioni e ai nostri governi di fare qualcosa nell'immediato e quindi gli interventi possono essere su due fronti da un lato quella di consolidamento del territorio e una maggiore cura a livello edilizio e in generale con edilizio intendo anche tutti i tipi di infrastrutture quindi non solo l'edilizia abitativa ma qualunque tipo di infrastruttura che deve avere cura di rispettare la situazione del territorio e non semplicemente cementificare a caso ma dall'altra parte anche interventi per quanto riguarda la tutela del territorio dal punto di vista delle emissioni contro il cambiamento climatico noi Simone parliamo di due concetti che sono estremamente importanti nelle scienze che riguardano il clima il climate change soprattutto mitigazione e adattamento la mitigazione riguarda tutte quelle opere che diciamo quelle azioni che sono messe in atto per cercare di ridurre le emissioni di gas clima alteranti l'adattamento invece sono tutte quelle azioni che servono per far sì che i territori siano in grado di supportare eventi meteo che possono trasformarsi in eventi meteo calamitosi io parlo di eventi meteo ma in realtà in generale parliamo anche di molto altro perché infatti prima ti ho parlato di perdita di biodiversità perdita anche di risorse quindi di capacità produttive capite che il problema del climate change è un problema a 360 gradi allora che cosa è uscito da questo rapporto dell'APCC per tornare al punto di partenza è uscito che ci sono delle enormi differenze in termini di effetti tra un riscaldamento a 1.5 e un riscaldamento a 2 gradi se riuscissimo a contenere il riscaldamento terrestre a una temperatura uguale o inferiore a 1.5 gradi centigradi riusciremmo a guadagnarne in salute ma io parlo proprio in termini di vite umane riusciremmo a guadagnarci in salute per quanto riguarda quindi in termini di biodiversità le barriere coralline per intenderci se riuscissimo a restare al di sotto di 1.5 riusciremmo a preservarne almeno 70% 70-90% se arrivassimo a 2 gradi le perderemmo del tutto gli oceani ovviamente si stanno innalzando se riuscissimo a restare intorno a 1.5 riusciremo a limitare almeno di 10 cm l'inalzamento dei mari rispetto a quello che succederebbe con 2 gradi e in termini di adattamento ovviamente le politiche di adattamento e le azioni di adattamento sarebbero molto più semplici passatemi il termine rispetto a politiche di adattamento necessarie nel caso in cui arrivassimo a un incremento di 2 gradi centigradi della temperatura terrestre quindi questo è il quadro che ci ha dipinto allora il significato che cos'è? che ogni decimo di grado di temperatura in più che noi abbiamo come innalzamento della temperatura superficiale globale e media terrestre è importante per cui quello che posso dire in questo momento è che a dispetto di molti articoli che sono usciti nell'immediato dopo la pubblicazione dell'IPCC che parlavano di un'estrema importanza nelle politiche di adattamento ma di una ormai diciamo inutilità nelle politiche di mitigazione in realtà è tutto il contrario dobbiamo lavorare tantissimo nelle politiche di mitigazione cioè quelle che riducono le emissioni di gas serra perché come dicevo prima ogni decimo di grado è importantissimo per la sopravvivenza della specie umana e delle specie terrestri nello stesso tempo dobbiamo lavorare per quanto riguarda l'adattamento dei territori per quello che tu dici sull'attività di appunto quindi diminuire le emissioni di gas serra secondo te qual è la soluzione giusta perché a pensarla così a me verrebbe da dire ma io fondamentalmente cosa posso fare io ho la mia vita il mio lavoro tutte le mattine mi esco esco mi vesto prima mi vesto e poi esco possibilmente vado al lavoro e di solito ci vado con un mezzo pubblico se ce l'ho a disposizione se non ce l'ho a disposizione non mi è comodo piuttosto che metterci due ore per andare al lavoro vado in macchina come posso cambiare nella mia vita qualcosa o meglio devo cambiare quello che stiamo dicendo noi è che devo cambiare qualcosa nella mia vita per costringermi a prendere il mezzo pubblico pur di tutelare l'ambiente quindi fare un sacrificio anch'io o stiamo parlando di qualcosa di più grosso e quindi di qualcosa che tutto sommato mi deresponsabilizza perché io singolo cosa posso fare fondamentalmente per cambiare per fermare questo cambiamento allora facciamo una premessa questa è una missione molto impegnativa però non è una missione impossibile allora dal punto di vista fisico chimico è una missione che possiamo raggiungere però come dici tu dobbiamo ragionare in termini di possibilità cioè di quello che ciascuno di noi può effettivamente fare è molto difficile esatto perché i nostri ascoltatori sono persone comunque che sono attenti sono sensibili e quindi magari si stanno chiedendo ok ma io adesso cosa posso fare concretamente allora concretamente la cosa diciamo più importante è iniziare a essere consapevoli del problema ma veramente cioè non consapevoli che potrebbe esserci un problema fra dieci anni vent'anni trent'anni no il problema esiste adesso e se noi continuassimo così i ventenni di domani cioè quelli nati adesso ad esempio mio figlio tra vent'anni si ritroverebbero nei guai e probabilmente si ritroveranno nei guai quindi iniziare a essere consapevoli del fatto che è un problema che esiste e che va affrontato oggi questa consapevolezza porta inevitabilmente a un cambio di prospettiva e in generale noi quando cambiamo la prospettiva siamo anche più pronti a cambiare le nostre abitudini che cosa significa cambiare abitudini non significa perdere in qualità della vita o in generale insomma perdere qualcosa in termini di comodità piuttosto che anche confort abitativo nelle abitazioni no significa avere alcuni accorgimenti nel quotidiano questi accorgimenti potrebbero essere nel muoversi effettivamente più in bicicletta piuttosto che in auto cercare per quanto possibile perché evidentemente può essere un costo di scegliere l'auto più adeguata ad affrontare una problematica del genere quindi a basse emissioni cercare di fare la raccolta differenziata come si deve ma ancora più essere cittadini consapevoli e quindi provare a scegliere il proprio sindaco durante le elezioni anche in base a delle scelte ambientali magari non solo il proprio sindaco ma anche i propri rappresentanti regionali magari non solo i rappresentanti regionali ma anche i rappresentanti del governo capisci quello che intendo è una deve essere pienamente d'accordo un cambio proprio che arriva dai piccoli gesti quotidiani parte dai piccoli gesti quotidiani e arriva delle scelte che possono essere importanti anche a livello nazionale quindi è sbagliato pensare che questo cambio questa transizione energetica e sociale debba avvenire solo a livello nazionale e non a livello del singolo cittadino ma è giusto invece pensare che questa transizione debba assolutamente avvenire in tutti i piani i livelli gli strati chiamateli come volete che fanno parte della nostra società quindi a partire da noi che dobbiamo essere cittadini consapevoli fino ad arrivare ai nostri governanti e poi a livello internazionale se parliamo di ONU eccetera eccetera tutti devono essere consapevoli tutti proprio dal primo all'ultimo perché altrimenti poi c'è qualcosa che può anche perché ci sono troppi interessi in gioco quindi per cambiare paradigma vuol dire per cambiare paradigma c'è la necessità di essere veramente consapevoli e convinti no infatti sono pienamente d'accordo con te sul fatto che appunto è la consapevolezza quella che sposta che non è la singola scelta non è semplicemente la singola scelta fatta così perché così mi sento ambientalista e non è una questione di ambientalismo ma una questione di tutelare il futuro nostro e dei nostri figli dei nostri discendenti e quindi nel momento in cui tu inizi ad avere un comportamento consapevole nella tua vita quotidiana automaticamente hai quell'attenzione in più che fa sì come dicevi tu di controllare che cosa sta dicendo il tuo sindaco prima delle elezioni e non votarlo solo per quello che dice non so sugli stipendi sulle tasse o sul sull'autostrada che passa o sull'inceneritore che passa vicino a casa ma anche sulla politica ambientale globale e così come dicevi tu dall'amministratore locale all'amministratore in realtà nazionale quindi sono pienamente d'accordo con te e secondo me è da lì che si cambia la prospettiva di un paese poi del mondo fondamentalmente non che stiamo andando in questa direzione devo dire e c'è molto lavoro da fare noi stiamo cercando anche di fare molto lavoro dal punto di vista della comunicazione Simo perché mettiamo un pochettino le carte in tavola si parla poco di cambiamento climatico quando se ne parla se ne parla perché magari esce il rapporto dell'IPCC 1.5 quello lì di cui parlavo poco fa però come se ne parla cioè facciamoci un po' un'analisi di coscienza se ne parla dicendo basta non c'è più speranza finiremo tutti in un mondo che sembrerà un mondo infuocato eccetera eccetera questo secondo te che ricadute può avere secondo te ha delle ricadute positive o negative diciamo nelle abitudini delle persone se ti va bene una situazione del genere ti porta alla famosa rassegnazione che poi da rassegnazione vuol dire che nulla si muove fondamentalmente i giochi sono fatti andrà come andrà fondamentalmente adesso mi preoccupo di più del domani piuttosto che di quello che c'è fra 10 anni ma è proprio così è proprio quello che sta succedendo cioè allora il rapporto IPCC ha detto delle cose chiare cioè il fatto che comunque come ti dicevo prima ogni decimo di grado in più è pericoloso per cui dobbiamo lavorare anche su queste piccole differenze ha detto anche chiaramente che a livello scientifico non è una missione impossibile anche se ha detto che evidentemente è molto impegnativa comunicare che non c'è più niente da fare dal mio punto di vista è è sbagliato perché non fa altro che dire vabbè visto che non abbiamo più niente da fare io mi godo il domani spero che i miei figli stiano più o meno bene i nipoti ho paura di no però va bene così cioè lo accetto cosa devo fare sì non ci pensi quantomeno non ci pensi non è sicuramente una delle tematiche principali della giornata diciamo soprattutto se il tuo concetto è ormai non posso fare niente ma la rassegnazione è l'esatto contrario della responsabilizzazione è proprio così è proprio così Simo e quindi insomma anche a livello comunicativo ci dobbiamo impegnare in questa direzione cioè del resto tu forse sei ancora più consapevole di me di quanto la comunicazione sia importante in questo genere di di missioni non è che sia io quello che è su canale 5 no certamente diciamo che anch'io sono consapevole di questo però anche tu osservi il panorama giornalistico da tanto tempo anche su problematiche che sono un pochettino controverse quindi sai un po' com'è che ragiona la psicologia delle persone sei particolarmente sensibile in questo e sai che se devi convincere delle persone che una problematica è realmente esistente lo devi fare in un determinato modo in un modo che è anche professionale e convincere le persone che poi sembra un convincere in realtà non è convincere forse non è il termine il termine più appropriato è spiegare far capire alle persone che è un problema grave enorme che dobbiamo risolverlo tutti insieme secondo me è una missione che i giornalisti si dovrebbero prendere in carico in questo momento è una missione molto difficile che presuppone che tu debba essere costruttivo e non distruttivo ed è una cosa che ultimamente va molto poco di moda perché la distruzione fa più scena la rissa è quella che tira di più perché puoi sempre sparare un po' più in alto puoi sempre dire la cosa un po' oltre le righe in questo momento cioè i giornalisti si sono mangiati il rapporto dell'IPCC perché non aspettavano altro di dire basta voi non avete pensato al cambiamento climatico fino adesso però sappiate che adesso è troppo tardi fine esatto e qui c'è quindi cosa fa sì esatto e rompi secondo me quel concetto di insieme che è quello che a me tra l'altro dà fastidio se posso dire che molto spesso si dice ah ma quelli non mi rappresentano quelli io non sono loro in realtà non è vero in realtà quelli chiunque sia dal vicino di casa a quell'altro all'amministratore locale ai nostri governanti in realtà loro sono fondamentalmente noi magari non sono uguali a me non rappresentano il mio pensiero in quel momento ma rappresentano probabilmente il pensiero di molte delle persone che mi stanno attorno e il fatto che rappresentino quindi non è che il Parlamento è lontano in realtà il Parlamento o il Sindaco è semplicemente fatto alle persone che stanno attorno nel pianerottolo di fronte a me che attraversano la strada con me la mattina quando andiamo al lavoro e quindi il concetto di dire ah io l'avevo detto ormai non c'è più niente da fare beccatevelo è un atteggiamento distruttivo in realtà l'atteggiamento costruttivo che potrebbe tutelarci sarebbe quello di fare come hai detto tu più volte in questa chiacchierata farlo insieme tu hai sempre parlato di noi di farlo assieme non di cambiare gli altri ponendoci a livello di quelli che già sanno che sono consapevoli perché non è così fondamentalmente siamo tutti sulla stessa barca e ci tengo particolarmente è che questo cambiamento veramente non vuol dire che noi dobbiamo vivere al freddo dentro le nostre case cioè non vuol dire questo evidentemente è una cosa che ha bisogno non è una cosa io non voglio dire che sia una cosa semplice ma voglio dire che per esempio a livello di incentivazione governativa gli incentivi invece che andare in una direzione dovrebbero andare in un'altra direzione in maniera tale da aiutare le persone ad avere degli impianti di riscaldamento che riescano ad andare rinnovabili piuttosto che andare a combustibili fossili questa è una cosa che non succede in questo momento in Italia non sta succedendo e quindi è qualcosa che non funziona che cosa bisogna chiedere essendo cittadini inconsapevoli che bisogna richiedere invece degli aiuti per poter avere una casa in grado di avere riscaldamento con energia rinnovabile e non combustibili fossili ma questa per semplificarla al massimo ok certo sì sì sono pienamente pienamente d'accordo con te senti io cambierei un momento argomento visto che abbiamo parlato tanto di riscaldamento globale e volevo dire e fare un piccolo product placement che in italiano è prodotto piazzamento mi piace molto prodotto piazzamento è montato da youtube in particolare non valgono i consigli per gli acquisti no in realtà Serena che parla che parla così bene scrive anche bene e ha pubblicato un libro qualche tempo fa non so quanto un mesetto un paio di mesi no in realtà a metà luglio perché per te sai come passa il tempo davvero davvero penso è uscito da pochissimo vabbè a metà luglio ho pubblicato un libro che si chiama ammetto che scegli tempo che trovi no però vale ancora non è che ci sono dentro delle previsioni del tempo che poi non valgono più cioè le previsioni dentro non ci sono quindi va benissimo anche dopo tre minuti ok diciamo che appunto non è un libro che parla delle previsioni estive parla di qualcos'altro di cosa parla? allora niente in pratica si chiama ammetto che scegli tempo che trovi e ho scritto questo libro perché sentivo una fortissima esigenza perché io vabbè mi occupo di previsioni del tempo le faccio anche su dei canali nazionali abbastanza famosi per cui ho sentito abbastanza è sempre molto carino è molto sottile da parte tua a serie l'apprezzo sono dei canallini così c'è antenna 3 rete 3 gold e tu 2000 esatto e poi quelli dove conduci tu e poi quelli dove conduco io che mi hanno fatto sentire l'esigenza di avere degli utenti un po' più consapevoli allora la meteorologia nessuno sa che cos'è il meteorologo nessuno sa chi sia per cui comunicare una previsione del tempo e avere l'ambizione che questa previsione sia capita non è così semplice non è una missione semplice mi hanno chiesto la casa editrice in primato che ha avuto molta fiducia in me per cui li ringrazio di scrivere un libro teorico sulla fisica dell'atmosfera e sulla meteorologia cosa che a me insomma nel periodo in cui me l'hanno chiesto mi annoiava un po' anche perché comunque dei manuali di meteorologia buoni ce ne sono più sono scritti in inglese effettivamente però ce ne sono anche in italiano ma questa richiesta mi ha fatto pensare che forse un libro una piccola guida potesse aiutare me e aiutare anche tutti gli appassionati di meteorologia che sono tantissimo perché se tu cerchi con google trend quante insomma quante volte viene ricercato meteo piuttosto che il sesso e la cucina il meteo è in cima alla classifica quindi davvero? sì sì davvero non l'avrei mai detto eh sì penso a te quindi diciamo che gli appassionati meteo in Italia ma in generale nel mondo sono tanti però forse c'è bisogno di una guida per spiegare effettivamente che cosa sia la meteorologia come capire se un sito meteo è affidabile o no come capire se una persona è davvero un meteorologo o no come capire se un'app meteorologica è affidabile o no ho raccontato dal punto di vista scientifico ma nel modo più semplice possibile qual è la storia del dato meteo che arriva nelle nostre app o che chiunque può leggere in un sito internet che si occupa di meteorologia ho raccontato tutte le bufale e le ho smentite che riguardano il mondo meteo in parte anche il mondo climatico ho raccontato quella che è la differenza tra meteorologia e clima che è fondamentale ma in pochi la conoscono e tante altre curiosità come l'ho fatto tramite storie personali quindi ho raccontato degli aneddoti che mi sono accaduti nella vita questi aneddoti sono infarciti di nozioni scientifiche però spero che insomma questa infarcitura non sia pesante per il lettore ci sono dei quiz che il lettore può fare per scoprire se è un meteo appassionato maniaco piuttosto che un appassionato consapevole piuttosto che insomma si possono fare questi quiz per capire un pochettino anche qual è la preparazione ci tengo tanto a sottolineare il fatto che ci sono anche dei capitoli e delle nozioni importanti riguardo alla protezione civile quindi a come comportarsi in caso di fenomeni meteoestremi all'importanza della consapevolezza anche in questo caso e così insomma eh sì sì è tutto effettivamente sono tutte nozioni molto importanti di cui abbiamo già parlato anche altre volte e sono contento che tu l'abbia inserito nel libro perché sono cose da cui non si può prescindere quando si parla di meteorologia non si può prescindere da questi tutte queste tematiche che poi sono come abbiamo detto anche in questa chiacchierata molto legate ai fenomeni meteorologici certo certo proprio così e insomma spero che per chi avrà voglia la curiosità possa essere una piacevole lettura piena di curiosità scientifiche va bene grazie per questa chiacchierata Sere noi ci sentiamo spero presto spero di non lasciare passare altri due anni purtroppo la vita è sempre un po' spietata nei confronti miei e di qualunque mio rapporto umano con qualunque persona sulla faccia della terra devo dire la verità ma forse anche un po' il podcast che spersonalizza sai che non hai non vedi la gente la gente mi riconosce per la voce dice è triste questo no si si c'è gente ah ma la tua voce l'ho già sentita ma tu sei quello di non mi riconoscono in faccia è così la tristezza un attimo dici dovrai rifletterci un po' su vabbè mi farò un esame di coscienza va bene Sere grazie mille per questa chiacchierata ci sentiamo presto grazie a tutti spero presto un abbraccio un abbraccio un abbraccio ciao 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 ed eccoci tornati in studio sempre più pieni di ottimismo con una barzelletta di quelle che si ricordano e però questa volta la dici tu guarda io la dico ma non me ne prendo la piena responsabilità perché vi racconto questa storia comandata questa barzelletta in realtà me l'ha passata Giuliana che gliel'ha passata un ascoltatore che si chiama Antonello aspetta che non riesco a trovarla neanche ce la salta sul telefono non vorrei mai raccontarla ma le sai non esatto bisogna fare queste Antonello di cognome non lo so però Antonello grazie per questa barzelletta agghiacciante io non sospetto perché ne conosco solo uno di Antonello che ci segue che può fare una roba del genere però va bene mio papà si chiama Antonello ciao papà però non credo che sia stato lui va bene siete pronti vai eh se voleva un pochettino di di patos ah vabbè adesso ti metto sotto una musica tensiva grazie Simo tu lo sai dove va un enzima affamato no all'osteria questa barzelletta la capiranno soltanto pochi grazie al cielo biochimici io le unghie che si stanno piegando al contrario questo presuppone che noi che siamo persone comunque con una certa competenza soprattutto in chimica e in biologia potremmo tranquillamente spiegare di che cosa si tratta che cos'è l'allosteria riferita agli enzimi che cos'è un principio allosterico all'interno ma non lo faremo in questa puntata in compenso in questa puntata esatto in questa puntata però potrei farti un'altra domanda ovvero se un acide e una base vogliono sfidarsi a tennis che tipo di campo scelgono? oddio il campo neutro questa è proprio una freddura ho i brividi fino in fondo alla schiena ma è una freddura su molti livelli perché non so è neutro in senso vabbè comunque ti metti anche a spiegarle barzellette brutte adesso siamo veramente caduti in basso assolutamente mai però se siamo tutti per cui non spieghiamo che cos'è l'allosteria comunque detto questo possiamo andare avanti a parlare di come andrà a finire il mondo e a questo punto c'era un po' di polemica e la polemica fra noi due è che è una cosa che un po' già chiesto anche a Serena in realtà ed è ma perché a nessuno gliene frega una mazza di questa cosa del global warming cioè hanno detto chiaramente che siamo un po' fregati no? tutto sommato ci hanno detto da anni che ci stavamo fregando ma ci hanno detto siete abbastanza fregati ora cercate di correre ai pari e almeno in Italia non ne ha parlato quasi nessuno eh sì tranne noi ma vabbè dai qualcuno ne parla secondo me perché è una questione è faticosa ma è faticosa perché forse perché ci sono più problemi che sembrano quantomeno più pressanti e quindi chi se ne frega per ora di quel grado in più quello sì perché un grado sembra poco no quello sicuramente perché non è una cosa che ti vedi sulla schiena tipo lo spread che sta andando alle stelle quello è più preoccupante al momento ma anche perché fondamentalmente secondo me facciamo molta fatica a pensare di dover cambiare il nostro stile di vita in modo da poter evitare nel nostro piccolo eh di aumentare la temperatura globale e soprattutto perché a livello economico ovviamente è non è vantaggioso andare a cercare di mettere una pezza a questo cambiamento climatico però se ti devo dirti dal mio punto di vista piccolo ci sono tante cose che si potrebbero fare ma che è molto scomodo fare scomodo e fastidioso e secondo me quella è veramente una barriera grossa culturale rispetto al nostro modo di vivere la vita in maniera consumistico frettoloso sempre di corsa che la barriera più grossa per le cose piccole che noi riusciamo a fare quotidianamente nella nostra vita per arginare sì manca anche però secondo me un indirizzo politico o quantomeno aspetta politico in senso generale anche dal punto di vista dell'informazione scientifica perché per esempio adesso ci sono delle nuove offerte con i diesel che costano meno del benzina e già a me questo fa un po' rizzare i capelli in testa perché il diesel è abbastanza inquinante e anche se consuma CO2 un po' meno della produce scusate CO2 un po' meno della benzina però tutto sommato emette altri composti tossici e su questo abbiamo fatto una lunga discussione io e Andrea su cosa fosse meglio se fosse meglio mettere un po' più CO2 e un po' meno composti tossici che ti uccidono sotto casa o viceversa ma in realtà al di là di tutto è uscito un recente studio che dice che anche le macchine a gas in realtà sono inquinanti tanto quanto la benzina e forse leggermente più del diesel e anche quella a metano perché prendeva in considerazione oltre all'emissione tal quale che effettivamente di per sé la combustione è migliore ma prendeva in considerazione le perdite del gas compresso che noi ci mettiamo nei serbatoi e che in parte viene comunque disperso nell'ambiente e che sembra che le perdite di metano siano molto 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 dannose e quindi di fatto vadano a controbilanciare completamente qualsiasi possibile vantaggio il problema è che per tanti anni ci sono stati una serie di incentivi per far sì che se vuoi essere ambientalista prenditi la macchina a GPL se vuoi essere ambientalista prenditi la macchina a metano ed si chiamavano ecoincentivi tuttora si chiamano ecoincentivi e in realtà poi probabilmente non sono eco affatto quindi forse c'è anche proprio una mancanza di studi o quantomeno di attenzione da parte della politica e dei tecnici agli studi che invece dovrebbero indirizzare qual è la via perché se io dovessi scegliere quale via inquina di meno al di là della scontata bicicletta barra monopattino in un posto come la Liguria dove comunque se hai il culo di andare da qualche parte in discesa il ritorno ce l'hai comunque in salita o viceversa di fatto non hai delle grossissime soluzioni alternative e comunque non ce l'hai chiarissime quali siano le soluzioni migliori adesso ci sono le elettriche ok bisognerebbe vedere nell'intere filiera produttiva di una macchina elettrica quanto si consuma e comunque per produrre l'energia elettrica consumi comunque allo stato attuale bruci carbone da queste parti quindi l'efficienza energetica va a farsi benedire e se non inquini dal tubo di scappamento della macchina comunque inquida a qualche altra parte producendo energia il fatto è che è vero che centralizzando migliori centralizzando un po' migliori però non è facile come problema effettivamente è pur vero che comunque queste macchette devono sempre vendere non è che ti dicono l'unica soluzione sarebbe non comprare più la macchina vai a piedi quando riesci e quando non riesci ne affitti una fai car sharing o prendi mezzi pubblici perché comunque avere una due tre macchine per famiglia e andare tutti da soli se tu ti guardi intorno tutti quelli che si muovono in macchina la maggior parte sono da soli in macchina io stessa sì è vero dopo gli ultimi eventi in città ho cercato di fare un po' di carpooling con i miei colleghi per evitare di muovere una macchina da sola mi sono resa conto che è una casa che si può fare abbastanza facilmente forse condividere le risorse che abbiamo è l'unico modo per poter cercare di inquinare di meno soprattutto durante gli spostamenti che sono poi quelle che incidono di più al stato attuale a livello di privati diciamo perché poi se dobbiamo parlare di industria e cos'altro è tutto un altro discorso ma credo che tu abbia parlato con Serena sì sì no infatti infatti a quel punto lì sì comunque non lo so sono un po' indeciso su come su come approcciarmi su anche perché effettivamente io non sono cioè sono uno che si occupa di ambienti e energie rinnovabili da un sacco di tempo ma in realtà non sono propriamente il massimo esempio perché comunque giro in macchina da solo però con la macchina GPL che pensavo facesse abbastanza meno male fino all'altro ieri e invece mi è deluso tantissimo e invece Simone ma guarda io forse ho trovato uno studio che ci porterà tutti a ad essere molto più consapevoli sul global warming una cosa che ci riguarda tutti da vicino forse andrà anche a cambiare un pochettino il modo di vivere il nostro tempo libero non so se avete quindi qualcosa che incide proprio pesantemente cioè un solco nella nostra esistenza nella mia esistenza per forza perché non so se hai sentito recentemente è uscito uno studio su Nature Plants quindi neanche un giornaletto piccolo piccolo che parla di come il global warming andrà a intaccare le riserve e la produzione di birra a livello globale eh no eh eh no questo no esatto questo non puoi farmelo caro global warming sì la birra è la bevanda alcolica più popolare del mondo anche perché sia per vendite che per consumo in litri anche perché è abbastanza economica eh ci sono diversi studi mh a livello di produzione e di come il global warming sia andando a cambiare la produzione di prodotti di lusso come il caffè o il vino fino a questo momento c'erano pochi c'erano quasi niente riguardo alla bevanda più popolare nel senso quella che costa di meno e tutti bene o male si possono permettere soprattutto una bevanda che si consuma come bevanda sociale la birra molto più di altri nero alcolici scusate bene a lei quando le dici che non c'è più birra che non ci sarà più la birra le si secca già la gola un casino esatto comincio a sentirmi già male adesso figuriamoci quando veramente vedremo l'effetto di questo global warming ma già adesso l'effetto è sono le ripetute siccità e le onde di calore sui prodotti le materie prime e soprattutto sull'orzo infatti la produzione di orzo è già calata dal 3 al 17% dipendentemente dalla zona del mondo e si vedono già gli effetti di questa di questo calo della produzione sul consumo e sul prezzo della birra nel mondo per esempio in Argentina c'è stato un consumo del meno 32% dovuto appunto alla ridotta produzione e in Irlanda un aumento dei prezzi del più 193% che per un irlandese deve essere una tragedia in mano che non ci ne diamo neanche bene conto cosa voglio dire sì però è carino perché vuol dire che stiamo parlando della scomparsa della biodiversità della birra che fondamentalmente è l'unica biodiversità che a me interessa cioè se ci sono meno biodiverse api in giro ma chi se ne frega se invece ci sono molti meno tipi di birra quello sì che è un problema se ci sono meno biodiverse api come fanno impollinare il tuo biodiverso lupolo senti a me questi dettagli non mi interessano non sono un naturalista io le cose le uccido sono un chimico non mi interessa come sopravvivono ma mi interessa molto la birra i fermentati in generale però questo studio è stato condotto in tandem di scienziati cinesi e inglesi e comunque vabbè ma sono cinesi dai quelli non bevono non ce l'hanno manca i ricinesi sì che ce l'hanno è anche abbastanza buona ma gli inglesi sì invece ne hanno tanta è diversa è molto buona sì è vero comunque la conclusione che loro fanno è che ci sarà nel futuro una diminuzione della produzione e un aumento dei prezzi con il trend che stiamo già osservando adesso e che comunque tutto ciò dipenderà dalla frequenza e dall'intensità degli eventi climatici che andremo ad affrontare quindi più ci saranno siccità e onde di calore più durante gli anni futuri la produzione della birra verrà a calare e a calare anche di qualità e loro poi dicono che avrà sicuramente un impatto sociale perché come dicevo io prima la birra è veramente una bevanda sociale perché si associa al consumo di birra ai momenti di relax di calma di quiete che tutti possono condividere e quindi dicono veramente nel loro paper che oltre al danno c'è anche la beffa perché oltre al danno di arrivare ad un futuro in cui l'escalamento globale avrà degli enormi impatti sulla vita di ognuno non avremo neanche una birra per consolarci quindi è abbastanza triste eh sì quindi pensateci rifletteteci tutte le volte che prendete la macchina adesso Ila in realtà non vedrà il sorge di questa triste alba perché comunque morirà soffocata è mal di gola che sta vendola meglio su di me esatto non sappiamo non so è il global warming o la tristezza di sapere che un giorno la birra sarà diversa alla combinazione dei due fattori mortale esatto comunque sarebbe interessante capire se questo non possa portare alla generazione di altri tipi di bevande magari comunque simili alla birra con tipi di magari con dei tipi di orzo diversi che sono più resistenti a questi sbalzi di calore lo so che sto dicendo questo contro tutto il messaggio che stiamo dando ma fondamentalmente se non fai l'apocalisse che divertimento c'è tra l'altro gli strumenti che servono per registrare un podcast fondamentalmente ci possono essere anche con l'apocalisse cioè uno il computer consuma poco quindi vai con la bici ci metti uno con la bici ti carica la batteria e poi registri simone cavaliere dell'apocalisse ragazzi c'è proprio l'altra cosa è internet come lo mandi in giro vabbè ma alla fine quello chi se ne frega prendi un megafono ci attacchi Simo mi stai entrando in quel scenario apocalittico che sprospettava e che chiedeva su cui chiedeva informazioni il nostro ascoltatore all'inizio cioè tu dici che comunque sia il podcast scientificas ci sarà sempre non solo ma a quel punto diventerebbe il podcast diventerebbe molto più importante dei video su youtube e quindi tu potresti monetizzarlo molto di più scientificas il podcast di scienza più ascoltato durante l'apocalisse esatto è bello durante l'apocalisse infatti tu giri col megafono e urli delle nozioni di scienza che peraltro in quel caso sono anche piuttosto utili cioè non le nostre perché noi non diamo nessuna informazione pratica per fare niente però in generale potrebbero essere anche piuttosto utili vabbè sei mai che durante l'apocalisse ti annoi esatto perché d'altra parte cosa puoi fare non puoi nemmeno farti le foto adesso sei morendo veramente perché adesso inizio a preoccuparmi avrei bisogno di un po' d'acqua o di una birretta anche quasi quasi da stapparmi esatto va bene allora direi che è il momento di avviarci verso la conclusione di questo episodio dunque di eventi ce ne saranno ancora un po' prima forse ce ne sarà ancora uno prima della fine dell'anno ma non ve lo spoileriamo infatti sarebbe troppo esatto non vi spoileriamo per il resto direi che per quest'anno mi sa che non abbiamo più niente in programma abbiamo fatto qualcosa sulla birra però il abbiamo fatto la festa e la birra in come si chiama il genova beer festival il genova beer festival esatto Andrea e Silvia si sono divertiti un sacco a far scoprire quali sono i sensi con cui sentiamo vediamo tocchiamo eccetera eccetera la birra a chi ubriaco si aggirava da quelle parti esatto è funzionato benissimo è stato divertente se l'anno prossimo volete venirci a trovare vi diremo per tempo e non dopo che l'evento è stato fatto dove venire esatto come in questo caso esatto perché a noi piace anche fare questa cosa qui cioè fare gli eventi e poi dirvelo dopo per il puro gusto di essere di risultare antipatici potete comunque in ogni caso contattarci per dirci che siamo antipatici all'indirizzo email info scientificas.it ci trovate su tutti i social quindi facebook twitter instagram ci potete trovare anche al cellulare baracca al numero 3892596 538 molti hanno già ripreso a scrivere al cellulare baracca io faccio il possibile per rispondere non posso rispondere tutti i giorni ma quando riesco lo faccio e segno anche le domande che ci fate quindi scriveteci anzi mandatemi anche dei messaggi vocali lì sono anche comodi da scaricare da inserire nel podcast dicendoci tutto quello che volete potete farci le domande ma potete anche fare dei commenti dire cose cantare ballare ballare è forse poco pratico per i messaggi vocali tu che dici eh sì oppure ballate ma noi non vi vediamo esatto sentiremo comunque il rumore vi immagineremo mentre ballate vabbè oppure potete anche scaricare la nostra app che ha avuto un piccolo problema qualche giorno fa ma adesso è tornata attiva quindi potete scaricare la nostra app e noi possiamo anche mandarvi dei messaggi push che ho scoperto da poco essere delle cose che tu puoi dei messaggi che puoi mandare che ti arrivano direttamente sul cellulare fastidiosi lo sapevi che potevamo farla questa cosa? non ho sentito perché mi ha dato via l'audio benissimo allora dicevo che abbiamo dei messaggi possiamo mandare tramite l'app dei messaggi push sui cellulari dei nostri ascoltatori ed è fastidiosissimo perché sono proprio fastidiosi i messaggi push e quindi stavo pensando di abusarne come di qualunque cosa qualunque strumento mi venga messa a disposizione penso comunque sempre di abusarne quindi non lo so quindi scaricatevi l'app e aiutatemi ad abusare anche voi di questo strumento abusiamone Simo c'è una cosa che forse non hai ancora detto cosa? hai detto la parola magica blips ecco a proposito di blips dobbiamo ricordarci che i nostri amici di blips hanno dato uno sconto speciale per tutti gli ascoltatori scientificast cosa sono i blips o le blips in ogni caso blips è un'azienda prima di tutto che no blips è un prodotto di un'azienda perché l'azienda non si chiama blips si ma stai facendo confusione davvero non lo faccio mai non succede proprio mai comunque te lo volevo far notare sono delle lenti di ingrandimento per cellulare con cui potete fare delle foto bellissime andate sul sito o su instagram sul profilo instagram di blips e andatevi a vedere che gran belle foto che si possono fare e non dico figata perché non si può dire una cosa del genere in podcast figatona però sì eh figatona però sì figatona però sì e quindi sono una figatona perché Bix trasforma il tuo telefono in un microscopio praticamente esatto e questo è uno slogan che hai appena letto dopodiché no comunque avrete il 20% di sconto per a fronte di 15 euro di spesa utilizzando il codice scris18 tutto minuscolo il 18 non potete farlo minuscolo dovete fare normale però scris18 se siete interessati a fare qualche bella foto magari di piccoli delle belle delle foto macro questa è una buona una buona scelta con i cellulari attuali vengono delle buone dei buoni dei bei risultati io non sono capace di farli ce li ho i blips li uso ma non viene mai nulla di bello perché faccio schifo io a fare le foto Ale l'ottimismo di Simone no no io faccio proprio schifo a fare le foto io faccio schifo a fare due cose ma proprio nettamente poi ce ne saranno duemila altre e tutto il resto è bravissimo no assolutamente però due cose mi riescono veramente malissimo il disegno a mano libera e le foto cioè sono due cose che proprio se tu mi fai disegnare una casetta col bambino io ti lo disegno esattamente come quando avevo tre anni è proprio uguale sai con quel comigno la punta con il fumo che esce e il bambino stilizzato così e le foto uguali se io fotografo una casetta viene esattamente così uguale come quella del disegno del bambino di tre anni esatto esatto è proprio è proprio così non ci posso fare niente mi dispiace vabbè si vuoi delle altre qualità ti segniamo così come sei ti vogliamo bene lo stesso esatto e oltre a queste qualità vi svelerò un segreto in chiusura di puntata ed è perché il nostro Nicola ha scritto una domanda così assurda proprio a Scientificast e ce lo dice lui stesso nel Postcritum ci ha scritto alle tre di notte perché ci ascolta anche da Ocean City in Maryland grande Nicola ciao Nicola ti perdoniamo sì sì ti perdoniamo soltanto perché sei Maryland esatto esatto buonasera buonasera Maryland a tutto il Maryland che ci ascolta sempre va bene grazie a tutti per essere stati con noi direi che ci sentiamo in una delle prossime puntate in ogni caso voi risonizzatevi sulle nostre frequenze virtuali settimana prossima voi risonizzatevi risonizzatevi ciao ciao grazie a tutti Grazie a tutti